Benvenuti nella rubrica Lo sapevi che? Pillole di web marketing. Il 94% dei millennials italiani intervistati dichiarano di essere più propensi ad acquistare un prodotto che ha una recensione video online positiva da una fonte fidata, mentre il 90% degli intervistati cerca informazioni e recensioni video online prima di procedere all'acquisto su internet. Il 42% degli intervistati sostiene di fidarsi di più di una recensione di un prodotto su YouTube rispetto a qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Altre notizie su www.robertocavasin.it e altre pillole nelle prossime puntate. Grazie per la visione!